I carabinieri di Napoli hanno eseguito alle prime luci dell'alba nove misure cautelari a carico di sette minorenni e due maggiorenni per la violenza nei confronti delle cuginette del Parco Verde di Caevano. Sulla vicenda degli stupri di Caevano indagano le due procure di Napoli Nord e dei minorenni che hanno emesso nove ordinanze di custodia cautelare emersi alla fine dello scorso mese di agosto. Due cuginette di 10 e 12 anni secondo la ricostruzione degli inquirenti furono portati all'interno di un centro sportivo abbandonato, il Delfinia, dove sono ora iniziati i lavori di ristrutturazione per il suo completamento entro la primavera del 2024 e violentate da un gruppo di giovani. Ma quello sarebbe stato solo uno degli episodi di violenza che si sarebbero ripetuti a lungo nel tempo. Alla svolta di oggi si è arrivati anche dopo il sequestro di diversi telefonini degli indagati. Grazie per la visione!